Ciao a tutti, sono Valerio e mi occupo generalmente di nutrizione, sport e benessere, ho un'attività in questo campo. Ho conosciuto la scuola UEFA tramite mio fratello che ha fatto il corso e me l'ha consigliato. Allora, sicuramente ciò che trovo di differente rispetto ad altri corsi, le ore di formazione, il modo in cui viene fatta la formazione e specialmente le metodologie che sono innovative rispetto magari ad altri corsi. Assolutamente consiglierei questo corso ad altri se sono alle prime armi e vogliono veramente imparare a fare questo lavoro. Consiglierei questo corso soprattutto per neovidi perché è un buon metodo per imparare, ma anche per professionisti per aumentare le loro competenze. E mi è piaciuto in più del corso il modo in cui gli istruttori ti accompagnano e ti fanno conoscere questo mondo interamente. Ciao a tutti e vi aspetto al prossimo corso! Ciao a tutti!